Sabato la mamma di William ha partorito due gemelle che si chiamano Nadia e Vanessa Alla nascita Nadia pesava 7,27 libri ed era lunga 21,5 pollici Mentre Vanessa pesava 8,34 libri Quanto pesano in totale? Nadia pesava 7,27 e Vanessa 8,34 Quindi dobbiamo sommare questi due L'altezza di Nadia non ci serve L'hanno messa solo per vedere se facciamo attenzione a cosa sommiamo La dobbiamo ignorare e non dobbiamo farci distrarre Quindi sommiamo il peso di Nadia e quello di Vanessa Allora abbiamo 7,27 più 8,34 Facciamo attenzione a metterli bene in colonna Quindi 8,34 Sommiamo 7 più 4 sono 7 centesimi più 4 centesimi fa 11 centesimi Che è equivalente a un decimo e un centesimo Un decimo più due decimi più tre decimi fa sei decimi Mettiamo la virgola poi E 7 più 8 fa 15 Oppure puoi dire 5 unità e una decina Ecco fatto Insieme pesavano 15,61 libri in totale E 7 più 5 unità e una decina Sommare 15,61 libri in totale